Ancora danneggiamenti al cimitero di Domodossola le hanno scoperti questa mattina gli agenti della polizia municipale nel corso di un sopralluogo l'ispezione scattata dopo che alcuni cittadini nei giorni scorsi hanno segnalato nuovi furti agli arredi funebri, spariti vasi, fiori, lumini, piccoli oggetti posti a corredo delle tombe. Diverse le denunce arrivate nel corso delle settimane agli uffici di piazza Mellerio, da qui la decisione di intensificare i controlli sino alla scoperta odierna. Ad onore del vero non è la prima volta che lungo il lato sud del campo santo domese gli agenti rinvengono arredi funebri. Alcune denunce sono arrivati al comando della municipale già inizio marzo, sono in corso infatti le indagini ma sull'esito gli agenti domesi mantengono per il momento il più stretto riservo. Chi riconoscesse in queste fotografie gli arredi di sua proprietà può contattare la polizia locale domese allo 0324 49 22 33 oppure inviare una mail a pm chiocciolacomune.domodossola.bb.it